Mio padre è morto, Charles Lee guida l'ordine templare al suo posto. Ora capisco perché è una guerra in vera. Ogni pezzo eliminato dal gioco viene sostituito da un altro. Uno va, uno viene, in ogni luogo, in ogni evoca. Certi giorni mi sembra di non poter vincere, ma non posso farmi consumare dal dubbio. La gente ha bisogno di me. Ora più che mai devo fermare i templari. Io ucciderò Charles Lee. Siamo qui riuniti oggi per ricordare un illuminato. Un uomo che voleva cambiare il mondo. E davvero ci è riuscito. Guardatevi attorno. Ora gli inglesi preparano la ritirata. Gli animi spezzati. L'orgoglio infrantum. E presto i capi dei patrioti faranno lo stesso. O si uniranno a noi. Mi ha mandato via quel giorno a Fort George. Temeva per la mia incolumità. Avrei dovuto restare. Disse che non c'era pericolo. Si sbagliava. Ti ucciderò, Connor. Te lo giuro. Non qui, però. Non oggi. No. Prima... Prima distruggerò ciò che hai di più caro. Ridurrò in cenere la tua tenuta e arrostirò per bene le teste mozzate dei tuoi padri fondatori sul fuoco. E una volta finito con loro brucerò tutto il resto. I tuoi cari amici assassini. I rifiuti umani che popolano questa terra. Il tuo villaggio e la tua gente. Moriranno. Tutti. Provaci pure, Charles. Ma come tutti i tuoi piani anche questo finirà per fallire. Mettetelo in piedi. Aspetterà. Osserverà. E poi... Quando avrà visto il lavoro di una vita finire in fumo... Solo allora potrà morire. Portatelo via. Peccato non poterti uccidere. Perfettere. Qu'è? 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 Qua'è? Qu'è? 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 Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie. 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 È il minimo. Farci venire fino a qui per nulla. Ora ditemi perché non dovrei gettarvi pasta ai pesci. Non siate impulsivo. Datemi un po' di tempo. Ispezionerò le altre navi se devo. Sono certo che ci sono prigionieri adatti allo scopo. Sta bene. Avete due giorni. Grazie. Precatevi alla taverna Green Dragon a Boston con gli uomini che sceglierete. Ci incontreremo là, nostro maestro. Grazie. 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 Grazie.